Ciao a tutti, sono Alessandro Muzzo, perché non mi conoscesse, da quest'anno faccio il direttore sportivo dell'Orzi Basket, un ruolo che mi ha proposto Francesco Zanotti, il presidente. Sicuramente mi dà molto orgoglio questa cosa di avere un ruolo importante ancora più dell'anno scorso nella società del mio paese, ringrazio Francesco che ha pensato a me, sicuramente un ruolo di responsabilità è stato un'estate importante, abbiamo cambiato praticamente tutta la squadra, quindi il lavoro è stato intenso in collaborazione con Elio Antonio, con Francesco e gli altri dirigenti e devo dire che mi è piaciuto molto, avere contatto con i procuratori, essere parte attiva nella costruzione della squadra, è un ruolo che mi piace, mi intriga e spero di poter portare avanti. Per quanto riguarda la squadra abbiamo sicuramente fatto una scelta abbastanza radicale, nel senso che l'unico confermato è stato Andrea Mazzucchelli, quindi è un gruppo completamente nuovo, siamo andati più sull'esperienza in confronto agli anni scorsi, giocatori anche di categoria superiore che sanno quello che c'è da fare per vincere, che hanno già dimostrato nella prima amichevole di essere un buon gruppo, di avere la piena consapevolezza che solo aiutandosi si può arrivare agli obiettivi importanti e sicuramente fino adesso siamo contenti al 100% di quello che abbiamo fatto. Poi sarà il campo dal 27 settembre a confermare il tutto, ma non ho dubbi. Siamo in preparazione, la squadra ha voglia di fare, ha voglia di conoscersi, ha voglia di lavorare, purtroppo abbiamo avuto un infortunio a Giuliano, Samoggia, il problema ha due vertebre, dovrà stare fermo circa un mese, quindi c'è qualche intoppo nella costruzione dei giochi, però gli altri stanno rispondendo tutti bene. Oggi abbiamo la giornata di test atletici e quindi cerchiamo di tenerli sotto controllo e di preparare questo precampionato al meglio. L'obiettivo di inizio stagione è sempre quello di creare il gruppo, di creare l'amalgama, di farli conoscere e far sì che possano stare bene insieme. Poi gli obiettivi a lungo termine, sappiamo che abbiamo costruito un ottimo roster di altissimo livello, siamo noi Bergamo e Udine probabilmente le tre squadre più forti del girone e dobbiamo essere bravi a dimostrare di stargli davanti. I tifosi si è già visto sabato alla prima amichevole, c'erano circa 300 persone, poi in tante sono venute anche alla presentazione in piazza, c'è Rudy che fa lo scemo e quindi mi fa ridere. Abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno che ci stiano vicini, abbiamo quest'anno trasferte molto più vicine quindi speriamo che vengano in tanti anche in trasferta, i ragazzi hanno bisogno e sentono la loro presenza e il loro affetto quindi li ringraziamo già in anticipo per quello che faranno durante l'anno. Sono un orciano quindi sono molto contento di essere stato qua oggi a fare i test alla squadra, sono un grande tifoso e quindi è bella questa collaborazione con la squadra. Allora stiamo lavorando bene, i ragazzi hanno molta voglia di... C'è Rudy che fa lo scemo e quindi mi fa ridere.